ci sono bisogno di prove per la fiducia non la posso dare a lei così a casa dopo che mi ha tenuto legata mi volevate cattivo eccomi non la voglio cattivo la voglio lavorare furbo e lei non si sta facendo furbo in questo momento se tu non sei se tu la non sono molto deluso da lei perché avresti avuti dalla tua parte e invece dovrai rischiare la morte tutti i giorni ogni volta che ti sveglia la mattina mi ha ragione collega provi di provi chiami chiami faccia può parlare un attimino per cortesia ma io devo chiamare 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 allora dica gioia allora posso chiamare pure dalla rubrica per caso sì allora quindi è una signorina dica gioia dico così gioia pronto salve signorina è in capito niente niente a posto è una signorina è che io devo dire ma lei è terribile e che io devo dire ma lei è terribile però abbiamo accertato che una signorina ho capito ma dica gioia faccia cose questa moca si pensa c'ho la punta dietro già è una situazione critica per la signorina non voglio entrare in quello che fanno loro due ho capito ma la situazione è già entrata comunque vabbè noi ci distraiamo che stiamo pure con la registrazione uccisa mazza tanto dunque è convinto ora lo dirà ma io non ci credo ci devo fare foto gente mascherata mi senti di viola dove dove c'è c'è ragazzo ok ti ho visto oh merda no 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 mi dissocio io sono caduto sono caduto dalla macchina alza le cacce di mani 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 alza e aspetta che dovrà finire di parlare si guardi no ora c'è giobastiani dietro mi sono faccia una chitarrata è fantomar non c'è il free roam in quest'isola allora raggiungi il complesso che è di là vabbè gli ezzar hanno posto alle transe io non lo vedo dimmi tu adesso si adesso lo vedo adesso lo vedo che cazzo non dobbiamo farci vedere c'ho una pistola silenziata in macchina non puoi andare non c'ho le armi non c'ho ma è piccolissima tra l'altro isola nuova vai gli ezzar se la fosse molto più grande e magari in macchina non ha senso lo passo di qua eh ma ci sono le transegne sopra qui mi sa che non puoi andare aspetta avviciniamoci il più possibile vai vai la telecamera aspetta eh ora c'ho la pista tutta innebbiata c'è una sigaretta a volante quella è mia e uso un'altra aspetta eh vai sto usando onde è sceso si e fermo lì bene aprite un ticket e hai fatto un video perfetto uno l'ho preso io ci siamo gli altri li ho fatti tutti io ero no dico io ne ho fatto uno e sono morto da dietro da uno che correva con la macchina mi consente di mettere le mani in tasca? quelli della macchina vabbè allora lo lascio in pace avevo i come? l'ultimo rimasto l'ultimo rimasto minchia mi ha tappato mi sono caccato addosso è bravino diciamo minchia bravino sono uscito ma non l'ho visto ma tappato vabbè eravate messi male abbiamo fatto un po' male a tutti civico 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 590 590 arriviamo arriviamo alzate le mani oh oh figlio di puttana fatti uno fatti due fatti tre fatti tre dove 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 bravo bravo sono nella piscina cazzo cazzo arrivo nella piscina fatti tre fatti tre fatti tre merda ehh wolf regli di acqua storia la stessa cosa faccia subito e fare pipì al signore se ti pare eh su che sarà mai ne ho nessuno senza offesa signore ma non so no 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 ma guardi non mi scappa più adesso che ci guardo bene i signori in faccia eh in effetti manca a me di scappare beh no eh vabbè venga la gente giunta il signore accetta comunque eehhh eehhh in che cello se volete sto in corridoio c'era un problema venga la cella 4 ragazzi svegliati neanche modificarla perché ha già fatto un ottimo lavoro ma che è un ottimo lavoro per lo mio non ti preoccupare perché tu hai a che fare con un fior fior di professionista sia per quanto riguarda di venditore sia per quanto riguarda meccanica quindi ora avvicinati ad abdul falla come cazzo ti piace a te e muovete che io tengo a che fare d'accordo vai perfetto allora lavaggio e riparazione ho fatto io caro hai pagato la fattura oh oh non 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 no Di solito mi pagano per farlo E la ragazza purtroppo Quei giorni E lei tra l'altro Mi sta dicendo che lei è così richiesto Che se si sa che una è gratis Si offendono le altre Ma mi faccia il piacere Quel giorno non so che mi è successo E l'ho fatto con lei gratuitamente E le ho detto Non facciamo uscire la stronzata Che sennò poi le altre La pistola rotta Porca puttana spara ogni tanto Ci sono due feriti Ti copro le spalle Ci sono due feriti Le devo andare a prendere la pistola Mi copri? Vai ti copro io Vai 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 Ora 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 Prendili prendili Cosa cazzo fai? Stai ferma Mani in alto Mani in alto Contro il muro Contro il muro Sfronza contro il muro Ti ho avvisato prima Stai ferma Girati Girati Sei uno schifo Devi girarti Questa è la fiducia Sei uno schifo Sei zitta Te l'ho detto stronza Era meglio lasciarmi per terra E ora saluto ma assorato Ero disposto ad aiutarvi Mi avete fatto incattivire E la pagherete tutti Cara Molto cara Pronto? Pronto? Ok Ok Il buco L'ha fatto Questo pezzo di berdo Ok Noo Calmi 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 Così farò parlare Calma Calma Aspetta 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 Ad occhi Ecco Ero in metagame Sei un grandissimo coglione Guarda E questa non finisce qua Parla Ma ci sono gli spiriti? Questa non finisce qua Bello Questa qua Si è bloccata Si è bloccata tu Sta facendo Smonti l'arma Smonti tutte le armi Smonti tutte le armi No no è la centrale Tranquillo Tutto a posto L'armi Tutto a posto Ci sente? No Smonti tutte le armi Ma che ha fatto Perché Stia a porno Non riesco Ok ok Dovrebbe Ah state giù State giù Potrebbe essere peggio Giù 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 Oh ricarica No No Lo facciamo L'ho manetti L'ho manetti Eh abbiamo un problema L'ho manetti Corri Aiuto